Ragazzi, un'altra giornata è finita. Qua si cucina. La cosa che mi fa nervoso, sai che? E' che mannaggiamo la rosca, no? Questo è un gattietto che si fa sulle ciampelle. Cantucci. E i muffin. E anche c'è il pepe. E l'anzalato. E va giù. Ma è una cosa che c'è Rillo che ti chiamava una capata a mucca, Rillo, e io ti chiamavo, vabbè. Non c'è cosa più brutta che tu stai dietro, vieni un corso di formazione, le ciampelle, e i biscotti a cioccolato, e un lievito. Vuoi questo o lo porti a casa? E no, sta a dire. Vuoi questo? Assaggia. E no, sta a dire. Vuoi questo? Ma no, vuoi questo? Ma no, vuoi questo? Ma no, non c'è una capata a mucca, ti stendo. Detto questo, vedi, buona giornata. E sempre, fino alla fine. Forza aiuto. Forza aiuto, è sempre, fino alla morte. Bello, vedi.